La curiosità e l'emozione del primo giorno in Consiglio regionale è come un po' il primo giorno di scuola? Sì, è un po' come il primo giorno di scuola. Dopo, devo dire, tante esperienze, perché c'è quella del Comune di Felino, ma c'è stata anche quella importante e significativa dell'Unione Pedemontana, di cui a rotazione con gli altri colleghi sono stata Presidente, e poi il Consiglio provinciale si aggiunge questa nuova e importante esperienza della Regione. Quindi sono molto contenta e, come al primo giorno di scuola, anche un po' emozionata. Molto consapevole della necessità che si debba partire da subito, con un lavoro serrato, perché credo sia davvero determinante dare delle risposte concrete che i cittadini si aspettano da subito. Quindi, rispetto a questo, c'è stata grande condivisione. Da subito, con il Presidente Stefano Bonaccini. Oggi, diciamo, tutto è stato fatto perché, affinché i presupposti per un buon lavoro dell'Assemblea potessero esserci anche in tempi brevi e quindi, insomma, l'augurio che faccio a me, ma a tutti, è quello di essere capaci davvero rapidissimamente di dare dei segnali, perché abbiamo molto bisogno di concretezze, perché è questo che credo serve per riconquistare anche la fiducia. Grazie. 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 Grazie.